Immagina come cambierebbe la tua vita se tu potessi iniziare a generare reddito passivo proprio adesso. Cosa succederebbe se tu potessi guadagnare 100, 1000 o 10.000 euro in più ogni mese? Inizieresti a viaggiare? O prenderesti una seconda laurea? O forse ti trasferiresti in una nuova casa? Nel mondo di oggi né un buon lavoro né una laurea prestigiosa possono garantire il tuo benessere futuro. Anche gli investimenti in strumenti un tempo redditizzi di indici azionari, petrolio, titoli di stato non funzionano più come una volta. È arrivato il momento di cercare qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo bisogno di soluzioni che non funzionano secondo le solite regole e non siano soggette a influenza estreme. Abbiamo buone notizie per te. La soluzione è stata trovata da tempo e la fonte di reddito passivo è già stata creata nel nostro team. Ti presentiamo Ultima, una criptovaluta di ultima generazione. Con Ultima tutti potranno scoprire numerose opportunità e un grande potenziale di guadagno nel mercato delle criptovalute. Il fondatore di Ultima è Alex Reinhardt, venture capitalist, imprenditore seriale e business coach internazionale. Alex Reinhardt è una delle dieci persone che hanno dato il maggior contributo allo sviluppo dell'industria delle criptovalute e delle tecnologie blockchain. secondo una delle principali riviste economiche al mondo, la rivista americana Entrepreneur. Alex interviene a conferenze e forum internazionali, nonché eventi che riuniscono diverse migliaia di persone, e parla apertamente delle opportunità e della strategia per un ulteriore sviluppo e crescita di Ultima. Ultima è una valuta digitale creata tramite la tecnologia blockchain per rendere le criptovalute pratiche e accessibili alle masse. L'utente è l'unico proprietario dei suoi token. Può liberamente estrarre, spendere, trasferire, conservare, ereditare i suoi token ed eseguire altre operazioni con essi in modo economico, rapido e sicuro. La criptovaluta Ultima prevede trasferimenti istantanei in qualsiasi parte del mondo e senza intermediari. Funzionamento 24 ore su 24 in tempo reale, sicurezza e protezione del sistema. Indipendenza, completo anonimato e conversione libera di Ultima in valute fiat e altre criptovalute. Ultima è una criptovaluta di massa con un'infrastruttura sviluppata e un'enorme community in 120 paesi. Pensa che Ultima è già utilizzata da 2.800.000 persone in tutto il mondo. Lo sviluppo di un'infrastruttura globale e la libera conversione dei token su numerosi exchange consentono a Ultima di essere ereditizia, prevedibile e applicabile nella vita quotidiana in diversi settori, soprattutto nel business. Oggi Ultima sta diventando uno strumento unico per il finanziamento di progetti innovativi, della beneficenza delle aree di business globali. Pertanto Ultima si sta muovendo con certezza verso le prime posizioni e mira ad entrare nella classifica delle criptovalute più famose sul mercato. Già oggi il token Ultima si mostra come uno degli asset più promettenti in qualsiasi portafoglio di criptovalute. L'obiettivo di Ultima è quello di facilitare l'utilizzo della criptovaluta per tutti, fare in modo che le persone possano non solo acquistare qualsiasi cosa e ovunque con i token Ultima, ma anche estrarli in modo autonomo utilizzando semplici strumenti. Il modo più semplice ereditizio per ottenere Ultima è quello attraverso un pool di liquidità delegato. Il pool è completamente decentralizzato e gestito dalla blockchain. Il pool viene riempito dagli utenti stessi. Acquistando un prodotto concludono uno speciale smart contract. Secondo i termini del contratto potranno ricevere una ricompensa giornaliera, che verrà pagata a vita per aver riempito il pool di liquidità. La blockchain emette ricompense su richiesta. Puoi richiederle ogni giorno, oppure puoi raccogliere le ricompense e ritirare l'importo accumulato. I token Ultima che ricevi come ricompensa possono essere utilizzate come meglio credi. Vendili per guadagnare sul tasso di cambio, acquista altri prodotti dell'ecosistema e aumenta i tuoi profitti acquistando nuove licenze. Ultima è già stato scelto da 2.800.000 persone in tutto il mondo. Unisciti subito anche tu.